Ed eccoci qua col Presidente Giorgi del Torre del Rovri. Allora Torre del Rovri che si ripresenta Presidente ancora ambizioso, un po' come è il suo Presidente. Campionato nuovo, campionato di promozione, si è vinta la prima categoria in un campionato molto difficile. Salto di categoria ma sappiamo che il Presidente è sotto sotto, non vuole fermarsi qui. No, sotto sotto c'è il pallone che è rotondo e noi ce la metteremo tutta per fare un bel campionato, per soddisfare ancora i nostri tifosi del Torre del Rovri e sicuramente ce la metteremo tutta. Poi dire che si va a vincere o che sarà un po' difficile, ci sono altre squadre che sono meglio organizzate magari o anche con più esperienza e questo penso che nel calcio faccia un po' la differenza. Noi ce la mettiamo tutta, vediamo in primis di sistemare il campo così a meno siamo sul nostro territorio a giocare e poi sicuramente proveremo a vincere qualche partita, mettiamola così che va bene. Sì, quest'anno ovviamente per noi esordiremo come neopromossa, quindi cercheremo di fare il massimo. Sono arrivati parecchi ragazzi nuovi e quindi cercheremo di dire la nostra, anche se appunto come dicevi tu, per noi è l'esordio in questa categoria proprio per tutta la società. Sì esattamente, la difficoltà maggiore riguarda appunto il parco giovani perché passavamo da un giovane 98 al giovane 2004 quindi anche gli innesti per la squadra sono stati fatti più che altro sul discorso giovani, sono stati inseriti dai ragazzi del 2002-2003, ci sono delle difficoltà sui 2004 su quali stiamo ancora lavorando e cercheremo di mettere anche lì una pezza dove servirà. Allora, sappiamo tutti che il Presidente è una persona ambiziosa, però è anche consapevole del fatto che siamo neopromossi, che affronteremo per la prima volta il campionato di promozione contro squadre che comunque sono anni che ormai lo fanno, quindi il nostro primo obiettivo è quello di adattarci velocemente alla categoria, dare del nostro meglio e poi alla fine dell'andata vedere un po' a che punto siamo e poi porci gli obiettivi per finali.